Vogliamo sparare subito qualche cartuccia? O persino qualche canone? Facciamolo. La Juventus è tornata, è tornata per lo scudetto. Lo sapevamo già. Vi siete stupiti, lo sapevamo già. Ma la capolista e l'Inter, la squadra favoritissima. Mettiamo il punto esclamativo a tutto ciò. O resta un piccolo interrogativo? Il Napoli, il Milan è crisi, immobile fa il gol e si riprende, no? Il palcoscenico, Zirkice, tacco, dribble a portiera, butta dentro, colpani. Quanti giocatori dobbiamo citare? Sulela, Rimontona, del Cagliari. Ecco, trattiamo tutto questo. Ce lo trattiamo adesso, ora! Mi sono svegliato Arzillo, mi sono svegliato Arzillo, è le 11, mezzogiorno, è finita la giornata, mi sono svegliato Arzillo. Nesco, ma vai a che gare? Sì, ci vado, tra poco. Prima, se volete lasciate un like, iscrivetevi al canale, se volete condividete il video, se lo state seguendo su Facebook. E basta, perché già avete fatto forse anche troppo. Ma partiamo veloci perché, come al solito, questo video, altrimenti ci imbiega una giornata. Come al solito, partiamo dai marcatori per registrare qualche novità. E l'ho detto prima, i nomi da citare sono indubbiamente su Lega, nonostante poi il Frosinone si sia fatto rimontare. E sulle, tra l'altro, ha procurato anche un rigore, no? E' lui che mette la manina, se non sbaglio sì. Però questo ragazzo che è stato... si inizia un po' a esagerare paragonandola a Di Paola. Di Paola, sì, Di Paola. Di Paola, un estro, un estro incredibile. Di Paola, già a Palermo ci faceva vedere delle robe faraoniche. Però, dico anche che non è che... non è che è proprio campato in aria. E questo paragone, il fatto sta che ce lo godiamo assolutamente. L'altro giocatore da citare, appunto, come dicevo prima, è Colpani. Colpani, comunque, questo ragazzo, 5 gol, entra... Viene citato come uno dei pochi numero 10. In realtà, non so se è la definizione giusta. E' anche un giocatore che si butta dentro senza palla. L'abbiamo visto. Molto, molto, molto interessante. L'altro giocatore che mi fa morire, morire per davvero. E... e Gudmonson, Gudmonson, ancora una volta. Un giocatore veramente clamoroso, ragazzi. Mi è veramente clamoroso. Sì, voglio citare questi, perché meritano di essere citati questi. Bonus Track, due giocatori. Politano, che avevo già citato. Eh, da poi, io... Eh, sì, sì. Tra le mille cazzate che dico, però, l'ho detto. L'inizio di stagione di Politano, veramente, veramente tanta roba. E poi, Scamacone. Scamacone, con la doppietta di ieri, si porta a 4 gol. Scamacone ha avuto un'infortunio importante. Ma Scamacone deve essere nei primi tre. Nei primi tre, perché se dobbiamo parlare dello Scamacca nazionale, lo voglio nei primi tre. È importante. Io ci spero anche, ripeto, per la nostra squadra azzurra. E poi ci ritorniamo su Scamacone, ovviamente. Quando parliamo delle partite, lo andiamo a fare subito. Adesso ho messo la classifica. Mettiamo anche la giornata appena disputata e la giornata a venire. A proposito, la prossima giochiamo l'Inter, perlomeno, contro l'Atalanta. Sarà interessante anche Fiorentina-Juventus, senza ombra di dubbio. Milano-Dinesa, onestamente, non ci dovrebbero essere problemi. Ghella-Gufo, Salernitana-Napoli, però bella una sfida campana. Andiamo, andiamo. Partendo dal basso, andiamo a parlare un po' della classifica. Da sinistra verso destro, prendiamo ad esempio l'ultima in classifica. E adesso, per l'ultima in classifica, parliamo della Salernitana. 10 le giornate giocate, sono ancora 0 le vittorie della Salernitana. 4 i pareggi, 6 le sconfitte. 6 sarebbero i gol fatti, pare proprio di sì. 20 i gol subiti, meno 14 il passivo e soltanto 4 i punticini. Non c'è stato questo boost da parte dell'allenatore, dal cambio allenatore. È arrivato un punto in due partite, che forse è sempre meglio degli ultimi risultati della Salernitana, ma che comunque non coincidono con un miglioramento della classifica. Ecco, anche sul piano del gioco, non lo so, la vedo male la Salernitana, la vedo male. Non so se Inzaghi, Filippo, fosse o sia, parliamo al presente, non so se è l'allenatore giusto per la Salernitana. Ma francamente è troppo, troppo presto per parlare. Ma io credo che nel caso della Salernitana non era l'allenatore il problema. Paolo Sosa non era, non mi sembrava, fino all'anno scorso parlavamo dell'allenatore che ci faceva vedere anche un gran calcio. No, secondo me. Abbiamo visto che alcune situazioni sono esplose in casa Salernitana, gestione di DA, il mercato, bla bla bla. Deve, deve un po', deve un po' trovare delle soluzioni, soprattutto magari nel mercato poi di gennaio. Per quanto riguarda il Cagliari, invece c'è stata la rimonta che ha cambiato e che potrebbe più che altro cambiare le sorti della stagione. Perché il 3-0, il passivo del 3-0, che secondo me era anche un passivo ingiusto, perché il Cagliari comunque era stato lì, aveva creato, aveva colpito pali, il palo aveva preso il rigore sbagliato, c'erano state delle situazioni che non aveva sfruttato. Il palo ha preso una mancosa, vigni, ancora gioca mancoso al Cagliari, una roba pazzesca. Sì, però sai, stai perdendo 3-0, poteva essere l'esonero di Claudio Ranieri, una persona che stimo tantissimo, mi sarebbe dispiaciuto ancora di più e invece no, invece arriva questo 4-3 in rimonta, incredibile, poi Pavoletti nel finale ne fa due, una roba fuori di testa. Sono contento perché potrebbe essere una vittoria che in qualche modo più che altro da slancio, sono tante le cose comunque che ancora vanno assolutamente migliorate, però è sicuramente un buon inizio, un rimonto del genere, è sicuramente anche la conferma che la squadra non è morta, non è abbandonata e che non è che inputta magari all'allenatore colpe, no, è semplicemente una squadra che ha dei limiti, però vuole ancora essere presente nella corsa e non è un brutto segnale. Non buonissimo il segnale invece che ha dato l'Empoli, è una sconfitta nitta quella dell'Empoli contro l'Atalanta, riprova che sì, gli ultimi risultati sono comunque e rimangono incoraggianti quelli che ha esportato in questo caso il cambio allenatore, quindi Andrea Azzoli, però è lunga e l'Empoli non è una sconfitta, cioè l'Empoli non è attrezzata come le altre, quindi sarà dura per l'Empoli e dovrà lottare con i denti per salvarsi. È l'altra squadra che comunque rimane ancora a zero vittorie, è proprio l'Udinese, una squadra che anche in questo caso ha cambiato allenatore, è ritornato a Cioffi, è riuscita ad agguantare anche il pari contro il Monza, un pari tra l'altro anche d'oro, se vogliamo, perché poi l'Udinese fa fatica a trovare gol, non prendiamoci in giro. Quanti sono i gol fatti? Sono sei, se paragonate a quelli dell'Empoli sono anche tanti, però fa fatica in base magari alle occasioni costruite, dicevo, ovviamente. Per esempio Success fa tante cose buone, ma poi si dimentica il pallone, ho visto fare delle robe incredibili, ha scartato mezza squadra e poi sotto il portiere non ha tirato, cioè si è impappinato. Anche l'Udinese deve stare molto, 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 molto attenta. Sai, le ultime cinque si sta assestando, la classifica si sta assestando, perché anche il Verona è una squadra che più dell'Udinese e più dell'Empoli, ma forse vi dico anche più del Cagliari, solo la Salernetana la metto veramente in un momento di crisi totale, ma il Verona pure non sta facendo bene, cioè il Verona è partito fortissimo con quelle due vittorie iniziali che gli hanno permesso appunto di guadagnare punti, anche importanti, però per il resto dopo si è completamente crissata e fa fatica, cioè contro l'Aventus dite o no, ma grande partita di sacrificio, perché poi alla fine avrebbe strappato anche il punto. No, chi ha visto la partita sa che è rimasta in vita chissà per quale motivo, e la sbracciata di Ken, il fuorigioco per un millimetro, le tante occasioni, Chiesa, Murato, tantissime robe, nel Verona lo vedo veramente in difficoltà. Attenzione, per dire che la Juventus ci sta, non è la partita contro la Juve che... No, ci sta alla grande, però su tutte le altre è una squadra che in questo momento fa enorme fatica, assolutamente fa enorme fatica. E risucchiato un po' verso il basso lo stesso Sassuolo, che è al quindicesimo posto, che è il Sassuolo, diciamo sempre la stessa roba, anche io del Sassuolo, sempre la stessa minestra, cioè alti e bassi, in momenti in cui magari perde tante partite, poi aveva ritrovato comunque dei risultati importanti, adesso nelle ultime quattro, come potete vedere, due pareggi e due sconfitte. Cioè ci sono partite dove giocano bene, anche col Bologna, questa è una bella partita, partita equilibrata, da una parte e dall'altra, occasioni, il primo gol di Boloca, da una parte e dall'altra abbiamo visto delle cose interessanti. Poi ci sono delle partite come contro chi è? Contro la Lazio? Che non l'hanno mai vista. Poi un partito con l'Inter o con altre big dove tanta roba. Cioè è una squadra strana, è una squadra veramente, veramente strana, strana. Chi invece è lineare è il Genoa, perché il Genoa, che ha 11 punti dopo 10 giornate al 14esimo posto, è lineare, sta facendo il suo cammino, il Genoa, bene, molto, molto bene. Molto bene, poi ha battuto una diretta avversaria, che è la Serenitana. E quindi molto, molto bene per quanto riguarda il Genoa, ragazzi. L'unico ne è che l'attaccante, Retechi, che è forte, ci ha fatto vedere cose veramente interessanti, però il problema è che c'è qualche infortunio o qualcosa, e quindi ha bisogno, ha bisogno di questi elementi. Poi il Genoa, ma l'elemento più importante è Gudmundson, che, ragazzi miei, di un altro livello. Veramente, di un altro, di un altro livello. Vittoria importante per il Toro. Vittoria importante per il Toro, poi al Via del Mare, contro il Lecce, Cazzarola, è sicuramente anche un risultato importantissimo. Però, calma, calma, perché da qui a dire che il Toro è uscito da questa profonda crisi, non lo so, perché comunque ho visto la profonda, non lo so. Sto cauto, non mi voglio sbilanciare sul Toro, perché quest'anno anche il Toro mi sta deludendo, eh. Sapete, l'ho detto mille volte, stimo Iuric, bla bla, però adesso vediamo una squadra che poi alla fine sbatte, sembra che va a sbattere sempre allo stesso modo, no? Ma se c'è un muro non sbattiamo, cambiamo qualcosa. E quindi va visto, però, attenzione, stiamo commentando una vittoria del Toro al Via del Mare, contro il Lecce, ne scrivo, e che cazzo, hai parlato sempre bene del Toro, adesso che vince, eh, so così, io so così, so proprio pazzo di mio. Però, la promuovo ma con riserva il Toro, eh, perché mi aspetto, no, un po' come il Sassuolo, alte e basse, vediamo, vediamo, vediamo. Il Frosinone sconfitta incredibile di Trimonta, l'abbiamo detto prima parlando del Cagliari, il Frosinone concede tanto, ecco, concede tanto, è concesso tanto, concederà tanto sempre, il loro stile, perché sì, concede un tanto, ma è anche una squadra che crea tanto, perché sì, ha preso quattro gol, ed è un macello quando vinci 3-0, però vinceva 3-0, cioè, è una squadra che i gol li fa, che crea, gioca, è divertente da vedere, e sicuramente credono, me ne vogliono i tifosi del Frosinone, non finiranno la stagione al dodicesimo posto, magari andranno nella parte sinistra della classifica, ci puoi credere, no, io in realtà penso di no, penso di no, sarà, però si salverà, cioè, è una squadra che, secondo me, il loro calcio lo farà e si divertono, secondo me si salva, cioè, è una squadra che, comunque a me piace tantissimo, l'ho detto, poi ho parlato prima di Sole, è grande, 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 senza un preso grande, 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 e Lecce, che è un partito fortissimo, è un po' come, sì, la stessa roba l'anno scorso, è un partito fortissimo, poi un po' risucchiato, e credo che Lecce è una squadra che lotterà per la salvezza, le ultime risultate un po' lo confermano, come vedete qui, in queste ultime cinque partite, solo due pareggi, che comunque non sono di certo da buttare, se andiamo a vedere quello che è il rendimento delle squadre, che devono salvarsi, e quindi loro si sono costruiti un vantaggio tale, però adesso Lecce deve fare qualcosina, no, non deve fare qualcosina, deve mantenere, deve tamponare, non deve farsi risucchiare più del previsto, però ce la può fare, perché comunque a me, Christovic lì davanti piace, la squadra c'è, è certo che giocare al Via del Mare, contro un Toro in completa crisi, almeno un punto strappalo, ecco, questo, questo volevo dire, questo volevo dire, però stare qui ad oggi, a sputare su questi 13 punti del Lecce, anche no, anche no, anche no, assolutamente, anche no, anche no. Parte sinistra della classifica, dal decimo al sesto posto, Monza, che porta a casa questo punto, l'Udinese, il Monza, come ho già detto in passato, e mi ripeto, alcune volte ragazzi, è un copy and call, è un copy, perché non è che da una settimana all'altra, può cambiare il parere di tutte le squadre, non può e non deve, perché sarebbe qualcosa di anomale, se cambia il parere, però è un copy and call, nel senso che il Monza, fa la sua stagione, deve fare la sua stagione, metà classifica, magari qualcosina in meno, non lo so, però è una squadra che, fa il suo, gioca bene, bello il gol di Colpano, no, l'azione, bello, si, l'ho riassunto a pene poi, e quindi il Monza, tanta, tanta, tanta roba, devo scappare un pochettino, perché come al solito mi faccio prendere, e sto video poi dura un'infinità, per quanto riguarda la Roma, ho letto anche tanti commenti positivi dei romanisti, per esempio sotto il video di Mourinho, in cui appunto lui diceva, determinate cose, ne abbiamo già trattato, ne abbiamo già parlato, i romanisti che dicevano, sì, ma abbiamo tenuto contro l'Inter, no, no, non si deve giocare così, ragazzi, non si deve giocare così, perché l'1-0, è un risultato dettato dai casi, noi dobbiamo vedere la partita, ragazzi, dobbiamo vedere la partita, e la Roma, poteva stare sotto di tre gol dopo 16 minuti, cioè, non, non fissiamoci sui risultati, poi è vero, gli infortuni, anche se poi, anche sugli infortuni, Renato Sanchez non è stato mai integro, altrimenti non l'avrebbe magari preso la Roma, lo stesso Smalling, carriera alla mano, non è un giocatore che è stato sempre bene, cioè, per cui, infortuni sì, ma un po' è anche gli obiettivi che ha intrapreso la Roma, che erano conosciuti, come posso dire, con delle defezioni da questo punto di vista, lo stesso Di Bala, per carità, no, intendiamoci, però, dove voglio andare a parare, non si, cioè, non si, no, l'errore clamoroso per la Roma sarebbe farsi bastare l'1-0 di sconfitta con l'Inter, no, va bene perché con l'Inter, abbiamo perso solo 1-0, abbiamo anche, no, non raccontiamoci questo perché altrimenti la Roma rimane al nono posto, ecco, quello che può succedere se ragioni così è che la Roma rimane al nono posto, che sarebbe un risultato veramente orrendo, 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 perché vedere la Roma al nono posto non è accettabile per quanto mi riguarda, non dico che deve essere al primo, al secondo, al terzo, ma deve lottare per il quarto, quinto, magari è lì al sesto, ma al nono posto no, e sono passate dieci giornate, quindi adesso la classifica si sta assestando, e lo stiamo vedendo quando andiamo a parlare della Lazio, della Fiorentina, dell'Atalanta che è sempre là, ma parliamo anche del Bologna, parliamo anche del Bologna che non perde, come vedete non perde facilmente, il Bologna ne ha perso solo 1 di partita, il Bologna ne ha perso solo 1 di partita contro il Milan, ragazzi miei, contro il Milan, e quindi direi che anche il Milan forse una tra virgolette delle big, non chiamiamola big, però una delle squadre insidiosissime, è riuscita a batterla, perché poi si parla di questo in casa Milan, e il Bologna ragazzi per me è giocato, a me piace il Bologna di Tiago Motta, io Tiago Motta lo sto sempre di più attenzionando, e mi auro che ci sia lui per il dopo inzai, io ve lo dico adesso, mi auro che ci sia lui, perché già so che non è che si può andare su profili galattici, alla Klopp, alla Zidane, e quindi un Tiago Motta me lo faccio bastare alla grandissima, e poi quando si parla del Bologna, io sarò ripetitivo, nauseante, pettulante, ridondante, tutto quello che vi pare, ma Zirkzei ragazzi che cosa ha fatto, con quel tacco se l'accompagna, poi, prendetelo con le pinze, però mi ha ricordato un po' Baggio, nel movimento, nella classe, mi ha ricordato, calma eh, mi ha un po' ricordato, ripeto, me l'ha ricordato, e già il fatto che in qualche modo mi ricordi Baggio, io ti devo voler bene, per l'infinità dei tempi, ecco, per quanto riguarda la Lazio, ha strappato la vittoria proprio nel finale, però la voleva sta vittoria, ci sono partite in cui lo vedi che la Lazio vuole vincere, basta, lo vedi no, come alza poi l'intensità, come cerca di martellare fino alla fine, non era facile, perché con la Fiorentina ragazzi, ecco poi Lazio e Fiorentina sono lì, 17-16 punti, non è assolutamente facile, anche la Fiorentina, nelle ultime due partite, due sconfitte, quella, secondo me questo ci può, ci può assolutamente stare, però, cioè ci sono queste partite in cui la Lazio la vedi che vuole, vuole veramente vincere, non c'è niente da fare, poi lo fa appunto con Immobile, ancora una volta gli è stato preferito Tati Castellanos, poi entra, batte il rigore decisivo proprio allo scadere, e viene accorto dalla sua casa, dalla sua famiglia, non c'è nulla da fare, quindi molto bello, molto importante questo gol, seppur arriva sul rigore, che cazzo ce ne frega, molto importante per lui, e la Lazio è iniziata a cambiare marcia, almeno in campionato, non mi è piaciuto per nulla in Europa, io non lo so se lì è una questione di testa, una questione proprio di obiettivo, non lo so, no io credo sia una questione di testa, non lo sto dicendo una stronzata, nel senso che, non è che vai a giocare la Champions, per non provarci nemmeno, è una roba che, non può, non può essere vero, neanche se sento l'allenatore diglielo, se sento l'allenatore che gli dice, no ma queste giochiamole tanto per, io non ci crederei lo stesso, non ci crederei, perché, quando giochiamo la Champions, non esistono, tutti vogliono giocare, al meglio, tutti vogliono mettersi in mostra, a parte, sai, che la Lazio non la, magari non la può vincere, puoi mai dire mai, vinta il Porto, un anno, che comunque è sempre il Porto, però, però, la gioca è per metterti in mostra, non c'è niente da fare, quindi, è così, la Fiorentina, due, due sconfitte nelle ultime, però la Fiorentina, ragazzi, è così, la Fiorentina, poi tanti impegni, tante partite, te lo diciamo sempre, ma la Fiorentina, secondo me, se la lotta, sta posizione, da qui a fine stagione, se la, se la lotta, alla grandissima, alla grandissima, senza ombre di dubbio, velocizziamo, andiamo nei primi cinque, ragazzi miei, e poi sarà importante, anche la prossima, per la Fiorentina, voglio vedere Fiorentina, Juventus, per me, Fiorentina, Juventus, è un, cioè, Fiorentina, Juventus, Atalanta, Inter, sono un bel crocevia, appunto, perché parliamo delle prime due, e perché, per quanto mi riguarda, Milan e Salernitana, scusate, Milan e Napoli, non dico che facciano tre punti facili, perché di facile non c'è mai niente, però sulla carta, in questo momento, diciamo, che affrontano due squadre, assolutamente, abbordabili, quindi, quindi, Atalanta, Inter, e Fiorentina, in momento, sono un bel crocevia, per Inter e Juve, per quanto mi riguarda, se non si steccano, veramente, poi siamo di nuovo, tutti, tutti lì, lo siamo ancora, tutti lì, che sia, che sia chiaro, ma, andiamo con ordine, il Napoli, il Napoli, per quanto mi riguarda, ho sentito García, quasi contento, nel senso che, certamente, è meglio, pareggiare 2 a 2, cioè, andare sotto di due gol, e pareggiare 2 a 2, che essere due gol di vantaggio, e farsi pareggiare, io non la vedo così, perché comunque, il primo tempo del Napoli, non deve essere cancellato, sì, poi nel secondo, hai fatto meglio, ma comunque, hai subito un paio di ripartenze, da parte del Milan, niente male, con un Leao che, cincischia, giochicchia, una volta che è stato fermato, non si capisce perché, quindi, io, ci sarebbe poco da fare, non lo so, non mi sta piacendo, neanche dal punto di vista comunicativo, perché sembra quasi, che alcune volte, si capisce se è serio, se scherza, se vuole burlare, il giornale, non lo so, boh, per me è un grande punto interrogativo, è un grande punto interrogativo, di certo, la reazione è stata importante, ovviamente, mi è piaciuto, anche ha cambiato qualcosina, e per una volta che cambia, riesce ad aggiustare le cose, è già tanta roba, però ragazzi, i primi 45 minuti, sono stati veramente indecorosi, e al Maradona, con la tua gente, veramente indecorosi, quindi, il Napoli, per me, rimane una squadra, fortissima, come dico, come ho detto mille volte, io l'ho messa in testa, alla classe, perché sulla carta, per me il Napoli è forte, 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 e però, non gira, non va, per quanto mi riguarda, non gira, non va, troppe lacune difensive, attenzione, ci può stare il pareggio con il Milan, per carità di Dio, però, per come è arrivato, García è contento per come è arrivato, nel senso che, ha rimontato, no, per me no, perché comunque, i primi 45 minuti, proprio da cancellare, proprio da cancellare, oppure, e poi, diciamocela tutta, se andiamo a vedere i due gol del Napoli, sono, bravo Raspadori a fare gol, ma il portiere lì deve fare meglio, e sul primo gol di Politano, figlio mio, sembrava Messi Politano, che è forte, che sta facendo una grande annata, però Politano è Politano, e quindi, e quindi così, e, andiamo all'Atalanta, l'Atalanta ragazzi, ad oggi sarebbe quarta, e, sono stupito, Neschio è stupito dell'Atalanta, Neschio non è stupito niente, zero, dell'Atalanta, di quello che fa, di un anno, stupito zero, ma veramente zero, e, mi auguro veramente che Gasperini, riesca a tirare, come spesso ha fatto, anzi, quasi sempre, riesca a tirare il meglio da Scamacca, che è un giocatore, che deve sgrezzarsi, che si sta sgrezzando, usiamo il congiuntivo, utilizziamo il gerundio, e, 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 e quindi, c'è l'Atalanta, è la solita, non c'è nulla da fare, sembra, ribadisco, sembra lontana anni luce, se penso, a quell'attacco magistrale, Ilicic, Zappata, Gomez, ma lo stesso Muriel, che erano una roba, qualitativamente parlando, rispetto ai giocatori di oggi, secondo me, più elevata, però il livello si è abbassato, in generale, quindi, ci può stare, e poi c'è gente comunque di livello, perché per me, Ederson, Cup Miners, gente che la palla la sa trattare, assolutamente, che sia chiaro, per i giocatori che lì, dal punto di vista dell'estero, li vedo differenti, ma poco importa, perché l'Atalanta si rinnova, gioca, non c'è nulla da fare, clamorose, attenzione, perché, se il Napoli non torna a marciare, ma l'Atalanta davvero, se la lotta, se lo lotta il quarto posto, l'Atalanta se lo lotta davvero, non è che scherza, tu dici, no, sono lì oggi dopo dieci giornate, ma, come il Palermo, quando è stato il Palermo, che nelle prime giornate, era insieme all'Inter, stiamo parlando di, di quindici anni fa forse, il Palermo di Miccoli, che era tanta roba, però, l'Atalanta se lo lotta fino alla fine, quindi, le altre so avvisate, e poi, come dicevo prima di Scamacca, clamoroso Scamacca, clamoroso, ho visto fa, gol di tacco, bellissimo, una sassata sul secondo gol, palo, traversa, e, questo, lavoriamoci su Scamacca, lavoriamoci, perché, è un attaccante che non è che mi convincesse più di tanto, nel senso che l'avevamo visto poco al Sassuolo, perché poi al Sassuolo, si è parlato di giocatori subito esploso, ma in realtà l'abbiamo visto poco al Sassuolo, in premier idem, in premier idem, per cui, lavoriamoci, è il mio nuovo mantra, sarà, lavoriamoci su Scamacca, il mio nuovo mantra è questo, lavoriamoci su Scamacca, e, e per quanto riguarda le altre, andiamo alle prime tre, si parla di crisi mia, io ci metto il punto interrogativo, anche da titolo magari, no, crisi mia, ragazzi, tutta sta crisi non la vedo, mettiamo la classifica, ancora una volta, cioè, l'Inter sta facendo qualcosa di, di abbastanza mostruoso, ha un ritmo che, se viaggia così va, è a quota 95, no, se continua a questo ritmo, finisce, finirebbe la stagione con 95 punti, 95 punti, e, quindi l'Inter sta facendo qualcosa di galattico, e, e nonostante ciò, nonostante ciò, il Milan è a 22 punti, è a tre punti sotto, ed è a tre punti sotto, perché ha perso malamente il derby, stop, quindi, francamente, ripeto, forse sono l'unico, sono l'unico ancora a dire, ma, ma non capisco perché il Milan, tutto, tutto, questo veleno nei confronti, quasi unicamente dell'allenatore, cioè, l'altro, ripeto, col Milan, col Napoli, non aveva difesa, ma a colpi dell'allenatore, cioè, non lo so, poi, entra Romero, ma, che io sappia, se è fatto male Pulisic, no, se è fatto male Pulisic, e, e manca Ciuquezza, e deve giocare con Romero, deve giocare con Romero, che per carità, è un giovane di belle speranze, bla bla bla, cioè, a meno che fosse stata scelta tecnica, allora, vi do ragione, però, ci andrei calmino, eh, quel calcio sembra quasi unicamente a colpa di Pioli, ma, e sta roba, come ho detto già, mi insegna che nel calcio, oggi sei un dio, domani sei uno scemo, che è proprio così, è una roba, è una roba clamorosa, Inter-Juve, la Juve è tornata, ho detto, la Juve è tornata in che senso, è tornata proprio, nel senso che adesso non si può nascondere, cioè, come ha fatto Allegri fino all'altro giorno, no, ma noi siamo dietro a Napoli, Milan, ma che cosa dietro, ma che cosa, ma quando mai, ma di che stiamo parlando, ma dove, perché, e soprattutto, come diciamo sempre, e dobbiamo dirlo nuovamente, senza coppia, la Juventus quest'anno, lo scudetto se lo gioca, io non la metto come favoritissima la Juventus, non ce la metto come favoritissima, perché ancora, vedo delle cose che, che può migliorare, però se tu hai la Juventus lì, a due partite dalla fine, a tre partite dalla fine, anche mentalmente, è diverso, è dura ragazzi, è veramente dura, per cui, la Juventus è tornata, sì, e adesso non si può neanche, nascondere, cioè, la Juventus, questo scudetto, lo può vincere, lo può, lo può vincere ragazzi, assolutamente, è una roba che mi fa, capponare la pelle, mi spaventa, calcisticamente parlando, perché, perché poi, alla lunga, io ho un periodo di flessione dell'Inter, purtroppo non lo aspetto, come è stato, questa Inter in zagliana, che è in campionato, prima o poi, no, nonostante sì, oggi, io vi dico la verità, vedo l'Inter, e per me l'Inter, ha qualcosa in più della Juventus, se vedi, forse anche nella, nella profondità della rosa, perché poi la Juventus, ha perso comunque fagioli, secondo me, è un'appendina importante, che ha perso, è vero che Pogba, non l'ha mai avuto, però, in alcune cose, magari, attenzione, se a gennaio, se si rinforza, attenzione, perché non, praticamente, non ha fatto mercato, quest'estate, ma attenzione, anche a gennaio, quello che potrebbe succedere, attenzione, però, l'Inter, che ho visto ad oggi, vedo un Inter, veramente, che mi viene da dire, che lo Scudetto, quasi lo può perdere, come è stato, qualche tempo fa, lo può perdere, solo l'Inter, per quello che ho visto, ad oggi, no, perché l'Inter, la vedo qui, e le altre, le vedo molto, le vedo un po' sotto, no, le vedo un po', un po' sotto, poi, come dicevamo, bisogna andare a vedere, quando una, va a giocare ogni tre giorni, e magari la Juventus, invece, ha l'opportunità di preparare, ragazzi, sembra una cazzata, ma non è così, perché veramente, la Coppa ti toglie tante, energie fisico, mentali, e, soprattutto, non puoi preparare al meglio le partite, una cosa è avere tre giorni, per preparare la partita, una cosa è avere una settimana, proprio per prepararla, quindi non parlo neanche, soltanto di energie, non è che sto mettendo le mani avanti, no, ma sto dicendo, che ci saranno delle difficoltà, ci saranno, no, ma, ci saranno, delle difficoltà, e lì, avere la Juventus, che sta lì, no, a tallonarti, è duro, sarà, sarà veramente, veramente duro, anche se, per quello che ho visto ad oggi, ripeto, per me, la favorita, al momento, veramente l'Inter, per come la vedo io, vediamo, vediamo però, cosa dice il campionato, e già la prossima giornata, ogni volta è un test nuovo, ma ogni volta è un test probante, Atalanta-Inter, Fiorentina-Juventus, ci daranno, secondo me, quelle risposte, che in questo momento, io sto cercando, e che secondo me, stiamo cercando tutti noi, va bene? Un grande abbraccio da Neschi, fatemi sapere cosa ne pensate voi, ciao ragazzi! Ciao!